Tanta paura nell'autostrada A13 Vologna-Padova per un autobus finito ribaltato. Il Pullman era partito da Roma e si stava dirigendo in Romania. Il terribile incidente si è verificato intorno alle 13 di lunedì 16 gennaio, presso lo svincolo di missione sull'A4. A bordo circa 60 passeggeri, adulti e bambini di nazionalità romena. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Alcuni passeggeri sono stati trasportati in ospedale per ulteriori cure e accertamenti, mentre i restanti sono stati accolti presso il casello di Padova Est, dove la protezione civile si è occupata di fornire viveri e servizi di prima necessità. Traffico in tilt e lunghe le code formatesi. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Milano, per permettere alla polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze, di raggiungere al più presto il tratto interessato dall'incidente. Sul posto anche l'elisoccorso.